Un falso cieco è stato scoperto dalle fiamme gialle della compagnia di Cava dei Tirreni. A margine di un'attente e capillare attività di osservazione, i finanzieri hanno così individuato un 63enne dichiarato affetto da cecità parziale e dal mese di febbraio 2010 da cecità assoluta. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad alcune riprese video nelle quali è stato possibile osservare e riprendere il falso cieco intento a svolgere in totale autonomia molteplici attività. Ad esempio, passeggiare senza alcun ausilio, supporto in luoghi e spazi, anche affollati, aperti al pubblico, leggere, contare soldi, prendere l'autobus e addirittura aiutare nella salita, prendendola sotto braccio, una signora anziana, attraversare la strada tranquillamente, schivando auto in marcia, recarsi all'interno di attività commerciali e anche di ristorazione, dove è stato visto pagare e consumare. L'uomo è stato così denunciato a piede libero per violazione dell'articolo 640 bis del codice penale, ovvero per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sono stati seguiti anche opportuni accertamenti documentali, tesi a ricostruire l'iter procedurale sanitario quantificato, l'ammontare complessivo indebitamente percepito, ricostruito analiticamente in circa 51.000 euro.